Il Consiglio dei Ministri deve deliberare al più presto l'erogazione dei fondi dei 10 milioni di euro per il bilancio nel Comune dell'Aquila. Nel mese di marzo è inaccettabile che non si abbia avuto ancora una risposta dal Governo. A ribadirlo a gran voce è Stefania Pezzopane. Una situazione complicata che ha visto chiedere anche le dimissioni del Sindaco del Capoluogo Pierluigi Biondi ed una crisi profonda della maggioranza. Dimissioni che Stefania Pezzopane commenta dicendo di essere assurde e imbarazzanti. La questione di 10 milioni è seria ed esiste e si dovrà trovare al più presto una soluzione. Io mi auguro proprio che il Consiglio dei Ministri rapidamente deliberi l'erogazione di questi 10 milioni di euro per il bilancio del Comune dell'Aquila perché questa situazione è veramente assurda e ridicola. Le dimissioni del Sindaco motivate con la mancanza di questi fondi sono dimissioni fallocche, c'è una crisi profonda dentro la maggioranza, però il tema dei 10 milioni c'è ed è serio. Ed è assurdo che il Governo ancora a marzo non abbia erogato questi fondi. Qui ho fatto l'elenco dei 5 provvedimenti a partire da luglio fino a febbraio, provvedimenti specifici dedicati ai terremoti o la legge di bilancio o il decreto semplificazione o il mille proroghe. In questi 5 provvedimenti io ho sempre presentato gli emendamenti per dare al Comune dell'Aquila 10 milioni, ma la maggioranza giallo-verde li ha sempre bocciati, i ricompresi leghisti che al Governo della città sono forza di maggioranza con il Sindaco Biondi. Allora il Sindaco deve prendersela innanzitutto con chi sta con lui, che è stato incapace di portare avanti questo provvedimento, e non può abbandonare in questo modo la città alla vigilia di un decennale che andava celebrato con un alto profilo e che invece ancora non si sa nemmeno chi farà gli eventi, quando saranno, come saranno, vengono fatti dei bandi, annullati questi bandi. Veramente una situazione pesante, ridicola, che mi auguro il Governo chiuda, ma rimane una situazione dentro l'amministrazione molto grave.